Il video è il video di un'altra parte. Non mi piace di farmi un'altra parte. Non mi piace di farmi un'altra parte. Nooo. Nooo. Sono morti. Andiamo a vedere che guardano la gente che succede. Sono bellissimi. Arrivano da voi. E lì venivano. Ma non è il ca... Ma stanno buoni. Non ci troppo. Non ci troppo, non ci troppo. Non ci troppo. E io, le faccio spesso. Ma, dove stai lontano? Non ci troppo. Non ci troppo. Attaccato. Atterrato. Morto. Ok, non ci troppo. l'algun mecca l'hai fatto? no, ho giù, c'è ancora un altro ma io mi hanno atterrato e li hanno atterrato andone ma ando pure fu nudo dai pure a me, figlia puttana no no, a te l'hanno finuto almeno dai pure a me no no, a me l'hanno finuto a te no ma ma fana a bende chi stanno guarda dai ma fa piu cerci a spezzidono occhi vincei vieni veneno da me vieni veneno da me oh 5,3 2,1 morto eh, come cazzo facevi? eh, ma gli stavamo proprio capabili dell'ingame oh, ma qua ne finisci chissi colpi assalto mo, camarono, non la mamma chissi no c'è la marone, guardiammi è bello che non busce nemmeno c'è che booo c'è, perché c'è i tre di prima e trasfitto come e porche l'ultimo cupette non tratta ma guarda assolutamente ma un belato incredibile 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 come c'è? ma l'assalto è blu 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 non mi fa piacere cioè non solo l'accelo, ci rompe pure la macchina non è chissà ah boh, è ridicolo 29 però da così vicino 50 chi sta fa con mandone a te? costruisce uno spa ma ora è giusto Ma pigio un culo, ma cacchina, bucchina, mamma te Mi ha fatto perdere tre urs Mi ha fatto perdere tre urs Dai vici, come ti aiutai? Che puro il che fa porto Fa porto uno pari assalte Ma forse è un po' più vici Per me è un'ortolana, grazie Io cazzi, che patano Ma magari, no, io voglio fare la pizza cacciata